ma c'è un tritone in acqua ma c'è un tritone ma vieni adesso dagli abissi ma sei nudo vai giù che ti sto facendo il video ma come no lo sai che sto facendo il video e ti sei fatto pensavo stessi facendo una foto e ti facevi fare la foto nuda bimbe il papà è impazzito la natura lo fa impazzire